Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi riusciremo a cambiare il colore dell'acqua. Useremo delle bombe d'acqua. Vedete? Sono azzurre e speriamo che cambiano il colore alla nostra acqua. Siamo pronti? Vedete? Sono proprio delle palline che mettendoli in acqua si toglie questa pellicola, si mettono in acqua e fanno tanta schiuma. E poi cambia il colore dell'acqua calda. Stiamo mettendo l'acqua e attendiamo che si riempie un po' la vasca. Bambini siete pronti? Sì! 3, 2, 1, via! Guardate, guardate le nostre bombe! È l'azzurro del cielo. Guarda, guarda come frizza. Guarda l'altra. Sono bellissime! Dovremmo comprarle di tutti i colori. Ma è tipo una vasca al cobaleno. Beh, si mischierebbero i colori. Compriamoli tutte le colori. Ragazzi, ora ci prepariamo per farci un bagno in questa acqua blu. Ci vediamo dopo. E allora com'è farsi il bagno nell'acqua blu, azzurra? Bello. Bello? La prossima volta che colore la compriamo? Di tutti i colori. Tutti i colori? Compriamo tutta la confezione? Mamma, azzurro. Sì. Giallo. Sì. Ehm, azzurro. E va bene, allora, per questo video è tutto. Lasciate un like, attivate le campanelle, iscrivetevi e ciao! Sì. Sì.